Allora buonasera, vorrei mandare un sincero abbraccio a tutti i ragazzi che mi seguono dalla Toscana per l'alluvione che sta mettendo in difficoltà le zone di Prato, insomma le zone interessate dall'esondazione del fiume Bisenzio e in particolare i ragazzi toscani con cui ci troviamo sempre in curva, mi auguro di vederli sabato e mando un caloroso abbraccio e insomma speriamo che tutto vada per il meglio, un abbraccio a tutti!